Ho perso fin troppo tempo dietro all'amore. Che dici se facciamo un ripassino sull'amore carnale prima di me ne vado? Forse potremmo scambiarci i numeri. Non è la nonna che decide. Beh, peccato, perché almeno lei sa come farsi rispettare. Ma perché devi essere sempre così scorretta? Antonio! Questo schifoso! Antonio, sei pazzo! Vieni qua senza sentirti per niente intimidita. In che senso? Oh! Che sbagliato! Pare siamo non la sua famiglia. Perché sta a concorare? Smettila. Smettila! Ma per la risposta è non lo so. Non ti voglio più vedere. Non ti voglio più vedere. Volevo fare la rock star. La nuova stagione. Prossimamente. Rai 2.